Dunque. Dunque, stiamo registrando. Ok, sì. Quindi abbiamo fatto un po' di pausa. Direi che possiamo riprendere. Vedo che qualcuno... Ecco, si sta già attivando per i gruppi. Perfetto. Se mi date solo un feedback che effettivamente si sente sul canale live, lecture, possiamo... Perfetto. Grazie mille. E così evitiamo di parlare a nessuno. Ok. Allora, in questa ora e mezza guardiamo tutte queste slide che, a dire la verità, sono abbastanza. Però cominciamo con cercare di fare qualcosa di un po' operativo su JavaScript. Non guarderemo tutte queste slide nel dettaglio, ma insieme ai docenti dell'altro corso, degli altri due corsi, abbiamo pensato di fare una cosa un po' più pratica. E quindi spesso ci fermeremo e proveremo con uno strumento che vi farò vedere a scrivere qualche riga di codice e a vedere effettivamente qual è l'effetto. Tanto sapete già più o meno programmare e quindi, diciamo, non dobbiamo soffermarci su che cos'è un array, ma semplicemente, per esempio, su qual è la peculiarità degli array in JavaScript o cose di questo tipo. Quindi ci fermeremo solo sulle peculiarità di JavaScript, diciamo, confrontato a tutti gli altri tipici linguaggi di programmazione. Ok, quindi, vabbè, qui ho trovato un cheat sheet, cioè una raccolta di funzionalità, diciamo, utile in JavaScript, ma, diciamo, queste cose lasciano tempo che trovate online. Fate prima, forse, cercare su Google spesso, quando avete bisogno di qualcosa, magari trovate, appunto, un esempio che vi dà un'indicazione su quale funziona, quale cosa andare a cercare nella libreria. Noi, in questo corso, prima di tutto, vogliamo imparare, come abbiamo detto, JavaScript come linguaggio di programmazione. Linguaggio, quindi dobbiamo prima imparare JavaScript e poi ci mettiamo a fare tutto il resto. Questo usano nel browser, usarlo sul server e usarlo per reato. Quindi, assumiamo che voi conosciate la programmazione e, appunto, vogliamo capire cosa ha di speciale JavaScript. Ci concentreremo su JavaScript e versione, cosiddetta, S6, che è del 2015, poi parliamo della storia di JavaScript, e, quindi, che è fondamentalmente quella che ormai supportano quasi praticamente tutti i browser. È supportata sia dai browser, appunto, sia da un ambiente di esecuzione che si chiama Node.js, che noi useremo sul server. Ok, cos'è JavaScript, story, eccetera, lo vediamo a strada facendo su queste slide. Quindi, vabbè, qui diciamo che JavaScript è sicuramente uno dei linguaggi più utilizzati, no? Perché? Perché tutti usano il web e quindi tutti hanno bisogno di realizzare applicazioni JavaScript. Quindi, inutile far soffermarsi su questo, quindi, è un linguaggio che può essere eseguito nativamente dal browser e tramite appunto gli ambienti di esecuzione, come questo Node.js, lo possiamo usare anche come linguaggio di programmazione, no? Quindi, è come quando abbiamo l'interprete Python, eseguiamo il codice Python. Abbiamo l'interprete JavaScript, in questo caso, è questo sistema Node, e possiamo eseguire script JavaScript, come se fossero degli script, appunto. Non ha niente a che fare con JavaScript, si chiama così, tra l'altro non è neanche il nome ufficiale e formale, ma si chiama così solamente per questioni di marketing. La prima versione è stata scritta in dieci giorni. E questo vi fa un po' capire da dove arriviamo, no? Quindi vi fa capire che, diciamo, in dieci giorni non avranno potuto fare chissà quali ragionamenti su come strutturare al meglio questo linguaggio. Infatti ci sono tutta una serie di decisioni fondamentali che sono state prese riguardo al linguaggio che onestamente potevano essere migliori. E quindi, diciamo, ragionando dal punto di vista tecnico, se si fosse pensato un po' meglio, progettato un po' meglio, forse sarebbe stato migliore sin dall'inizio. Diciamo che oramai però ha raggiunto una sua maturità, una sua, diciamo, coerenza, a forza di tutte le modifiche che sono state fatte e apportate nel tempo, che ci consentono comunque di utilizzarle in maniera abbastanza buona. Ecco, parliamo della storia. La storia parte nel 1995, quindi vuol dire 26 anni fa, che sono tantissime ovviamente nell'ambito dell'informatica, è stato introdotto da questo signore che si chiama Brendan Ake all'interno di Netscape, di cui penso non abbiate mai sentito parlare, io personalmente l'ho usato alla fine dell'università, quando seguivo, che è un browser web. Netscape è stato uno dei primi browser web. E c'era la necessità appunto di inserire qualche piccola istruzione in programmazione per rendere un pochettino più interattivo il browser. E quindi è nato questo JavaScript, inserito appunto questo signore che lavorava in Netscape nel 1995, che poi appunto è evoluto e in realtà il nome formale di questo linguaggio è ECMAScript, perché poi è stato standardizzato e così via. Quindi in realtà bisognerebbe chiamarlo ECMAScript, nessuno lo chiama ECMAScript, tutti lo chiamano JavaScript e ne esistono svariate versioni. Vedete che diciamo è evoluto fino a un certo punto, ECMAScript 3, dicembre 99, e poi c'è un buco di dieci anni, molto ampio, in cui fondamentalmente non c'è stata diciamo particolare evoluzione. E poi diciamo lo sviluppo di JavaScript è ripreso, ripreso da questo ECMAScript 5, in cui sono stati introdotti tutta una serie di funzionalità per renderlo un linguaggio, come dire, un pochino migliore dal punto di vista dell'uso per programmare qualcosa di, potremmo dire, consentitemi, serio. Perché fino a questo punto fondamentalmente sì, è vero che c'erano delle strutture di controllo, do what, if, try, catch, eccetera, però fondamentalmente si mettevano dei pezzettini in codice limitati per gestire fondamentalmente l'interazione con dei form proposti dal browser. Da questo punto in poi si vuole andare nella direzione di scrivere veri e propri programmi interi, grosse librerie, eccetera, che ci consentano di realizzare applicazioni sempre più grosse, andare verso quest'idea della single page application. Quindi, appunto, ci sono tutta una serie di caratteristiche che sono state introdotte, diciamo, poi queste caratteristiche sono state anche standardizzate, eccetera. Noi ci focalizziamo su questa versione, ECMAScript 6, che è del 2015. In realtà, per la verità, certe cose andremo a prenderle anche da versioni più moderne, e vi spiego poi come fanno a diventare ECMAScript 6, quindi compatibili ECMAScript 6, che è, diciamo, il livello di compatibilità moderno di tutti i browser moderni. Notate sempre questa differenza, il 6, il 2015, il 7, il 2016, eccetera, perché ad un certo punto chi standardizza, appunto, JavaScript si è dato l'obiettivo di fare una nuova versione ogni anno, diciamo, sistemando o aggiungendo funzionalità che eventualmente vogliono entrare nel, si desidera entrino nel linguaggio. Quindi, troverete scritto ES6 oppure ES2015 con riferimento all'anno, che è sempre uno in meno del numero di versione dell'ECMAScript. Quindi, questo è come funziona, vi ho raccontato. Una volta i browser erano compatibili ECMAScript 3, adesso fondamentalmente sono quasi tutti ECMAScript 6. Quindi, dietro questo linguaggio, ecco, ci sono una serie di attori abbastanza importanti, Mozilla, Google, Facebook, Apple, eccetera, eccetera, perché? Perché tutti sono coinvolti fondamentalmente nello sviluppo di sistemi web, applicazioni web. Noi non andremo, ovviamente, andare a vedere lo standard, perché lo standard, come tutti gli standard, è illegibile. Nel senso che lo standard è la descrizione formale di quello che si può fare, non si può fare, di come deve comportarsi il linguaggio in certi casi, eccetera, eccetera. Ma non è, diciamo, qualcosa che ci insegna le caratteristiche e le cose che dobbiamo sapere per, diciamo, utilizzarlo con efficacia. E il riferimento, se per caso ne avessimo bisogno, riferimento ufficiale. Come facciamo a far funzionare JavaScript? JavaScript, dunque, JavaScript viene interpretato, in linguaggio interpretato, viene interpretato da dei motori di, diciamo, di interpretazione JavaScript, se possiamo così chiamarli, quindi degli engine JavaScript, quindi dei sistemi che leggevano il codice JavaScript. Il più famoso di tutti, forse l'avete sentito nominare, è il cosiddetto V8, che è quello incluso nella maggior parte dei browser, quindi è incluso in Chrome, nella sua versione free Chromium, è quello incluso in Node.js, che è quel strumento che andremo a utilizzare, e quello anche incluso in Edge, inizialmente in Edge ne usavamo un altro, ma poi si sono convertiti a usare questo interprete JavaScript. Mozilla, invece, fa differenza perché ne usa uno suo proprietario. E ecco, anche Safari, tra l'altro, ha il suo, quello, il browser di Apple. Comunque, a noi questa cosa interessa più che altro per curiosità, se sentite parlare di JavaScript V8, è il motore che fa funzionare JavaScript. Poi, in realtà, se interpretano correttamente come fanno il JavaScript standard, a noi che sotto ce ne sia uno un altro, cambia forse un minimo solo per la questione di performance, ma non ci interessa più di tanto. A noi basta sapere che funziona il JavaScript. Ecco, quello che ho detto è vero, diciamo, fino a un certo punto, perché, come vedete, da questa tabellina, a seconda che voi vi troviate, su un browser che è, diciamo, desktop, piuttosto che versione mobile, quindi l'app sullo smartphone, per intenderci, a seconda di quale browser è, e così via, ci sono non proprio tutte le caratteristiche del JavaScript che sono implementate completamente, con pieno supporto, e così via. La colonna rossa che vedete qui, vabbè, la lasciamo perdere, perché oramai è Internet Explorer che non, diciamo, non si usa più, perché oramai c'è appunto questo edge. Le altre colonne, in realtà, questa tabellina bisognerebbe aggiornarla praticamente tutti i mesi, i settimane, perché il supporto cambia nel tempo, anche a seconda della volontà di chi sta dietro i vari browser di aggiungere questo supporto. Ogni tanto sono scelte politiche di non supportare o supportare certe funzionalità. Comunque, da qualche parte su Internet, se avete proprio necessità, potete andare a cercare queste tabellini compatibilità, ma diciamo che le caratteristiche principali del linguaggio che andremo ad utilizzare sono supportate da tutti, quindi non dobbiamo farci troppi problemi in questo senso. Prima di tutto, prima di adentrarci a raccontare qualcosa di JavaScript vero e proprio. Allora, JavaScript è cosiddetto backward compatible, cioè nel momento in cui si decide che qualcosa, diciamo, è JavaScript corretto, quindi entra nello standard e si può utilizzare, non ci sarà mai, per volontà del comitato che lo mantiene, un cambiamento che fondamentalmente fa sì che quel codice scritto tempo fa diventi codice JavaScript non più valido. Quindi questo è riassunto nella frase appunto che vedete qui dai membri del comitato che mantiene JavaScript, non rompiamo il web. Quindi se c'è una cosa che funzionava, non è che nelle future versioni di JavaScript non funzionerà più, perché abbiamo cambiato, che so, il modo di scriverlo, abbiamo cambiato la sintasi, eccetera. Questo non vuol dire che sia forward compatible, cioè non è che le cose nuove che vengono aggiunte in JavaScript funzionino se il sistema di interpretazione JavaScript che abbiamo, che sono nel browser o nel node, eccetera, è vecchio, perché chiaramente se un sistema è compatibile, che so, S6, interpreta correttamente tutte le cose S6, ma certe cose di S7 non le potrà gestire, perché non le conosce, no? Ma c'è poi una soluzione, come vedete qui sotto, a questi problemi. Ad un certo punto, ecco, la cosa che forse avrei dovuto dirvi prima delle S6, che è stato in S6 introdotto il cosiddetto strict mode, che è quello in cui andremo a operare noi. Di nuovo, noi diamo fondamentalmente consigli, questo mi sento di dire forse un po' più di un consiglio, non voglio dire che è un obbligo, perché, diciamo, sperimentare fa parte dell'approccio di qualsiasi programmatore, però, diciamo, vi consigliamo fortissimamente di usare sempre lo strict mode, e facciamo poi vedere come si fa, è veramente semplice. Questo perché disabilita tutta una serie di costrutti semantici che sono vecchi e anche abbastanza pericolosi, pericolosi nel senso che hanno tantissimi effetti collaterali e fanno sì che JavaScript si comporti in una maniera che non è per niente intuitiva. Per esempio il fatto che, che so, non dichiariamo le variabili, e tra poco parliamo di variabili, vuol dire che queste esistono già prima che le dichiariamo, eccetera, diventa una cosa estremamente complicata. Quindi, quando possibile, e nel nostro caso sarà sempre possibile, usiamo lo strict mode. Ecco, questa è, però, per nostra scelta, perché decidiamo di usare noi come programmatore strict mode, un qualcosa che rende non più backward compatible il codice JavaScript, perché bisogna scrivere in una certa maniera, perché disabilitiamo certe caratteristiche che prima erano valide nel linguaggio JavaScript. Come facciamo? Se vogliamo usare funzionalità più moderne su un sistema che supporta solo funzionalità vecchie, diciamo appunto che sono una funzionalità S8 su un sistema che supporta S6, bene, esistono due approcci differenti. Uno, il cosiddetto transpiling, quindi ci sono dei, diciamo, traduttori, per esempio Bubble è uno dei più famosi, che converte la nuova sintassi JavaScript in una sintassi compatibile col vecchio JavaScript. Cioè, fondamentalmente crea del codice che emula tutte le nuove funzionalità di JavaScript usando dei contratti sintattici vecchi. Quindi è tutto automatico e noi possiamo scrivere nella nuova versione e poi la traduciamo automaticamente nella versione vecchia, così che possa girare su questi motori JavaScript che supportano solo la versione più vecchia. L'alternativa è avere qualcuno che ci implementa la funzionalità che non abbiamo. che so, c'è una... è stata introdotta una nuova classe, una nuova funzione di libreria, eccetera, che non abbiamo. Beh, se noi importiamo, carichiamo questa nuova funzionalità da qualcuno che l'ha scritta in una maniera che è sinteticamente compatibile a quella della nuova versione del linguaggio, bene, allora abbiamo risolto il nostro problema. Quindi due approcci. Primo transpiling, il secondo si chiama polyfilling, quindi si riempiono i buchi, i buchi che derivano dal fatto che c'è qualcosa di nuovo da supportare nel linguaggio, ma che non è supportato dalla vecchia versione. Ok, ambienti di esecuzione. Quindi pensiamo all'S6. Pensiamo a, diciamo, prima di tutto, forse ecco, cominciamo dalla parte più semplice che è quella centrale, il browser. Nel browser abbiamo l'ambiente di runtime e lì non lo decidiamo noi, è già dentro. Chrome, vuoto, Mozilla al suo e così via. Firefox al suo. E poi, diciamo, abbiamo questi strumenti di sviluppo, non solo quello di React, proprio all'interno di ogni browser c'è uno strumento di sviluppo che ci consente di debaggare e lavorare con il codice JavaScript. Vi faccio vedere che cosa intendo prendendo una finestra di, questo è Chrome, quindi prendo Chrome, abbiamo tools, developer tools. Vedete che vi viene fuori tutto un sistema in cui noi possiamo andare a interagire e scrivere del codice JavaScript. Che so, ciao, adesso. Questo è un piccolo esempio, no? Questa è una riga di codice JavaScript che ci fa apparire una finestra, ma giusto per fare una prova. Quindi c'è la console, ma c'è anche tutta la possibilità di andare a caricare il codice JavaScript, a debuggarselo. Ovviamente adesso questa è la pagina di Google, sarà estremamente complicata e non vogliono che si debugghi e quindi sarà anche abbastanza pasticciata e resa illeggibile. Però, diciamo, abbiamo tutti questi strumenti che possiamo utilizzare per andare a capire come sta funzionando il nostro codice in JavaScript all'interno del browser. E questo c'è per tutti i browser. Questo non è un Chrome speciale, questo è il Chrome standard che scaricate, che tutti scaricano sul loro computer. Chiaramente io sono in Linux o il Chrome per Linux. Però se siete in Windows, avete Chrome per Windows e ha il suo developer tool. Questo è Firefox e anche qui, da qualche parte, forse web developer, adesso che so, apriamo, ecco, inspector e di nuovo qui abbiamo la possibilità di fare la stessa cosa. Console, il debugger, vabbè, adesso qui forse non abbiamo caricato del code, se c'è qualcosa. Questo codice è legibile, se lo scrivete voi è molto più leggibile. Potete mettere i breakpoint, potete eseguire passo passo, eccetera, potete fare tutto quello che fate normalmente con un ambiente di esecuzione che vi consente, anzi con un sistema di sviluppo potremmo dire, che vi consente di fare l'analisi del codice che avete scritto. Quindi ci sono gli strumenti di sviluppo che sono standard e presenti all'interno di tutti i browser, almeno i browser desktop, diciamo. Quelli normali che scaricate non è una versione speciale. Per eseguire JavaScript al di fuori del browser abbiamo bisogno di un ambiente. Abbiamo detto prima Node.js è l'ambiente che vogliamo utilizzare noi perché è il più diffuso, semplicemente per quello, non sarà l'unico ma è il più diffuso. Gira in ambiente Linux, Windows e qui non c'è, c'è anche Mac, qualcuno mi aveva scritto su Slack, ecco tra l'altro, non mi tengo l'aperto, ok, Slack che si andava bene per il Mac, va bene anche per il Mac, si può usare anche per il Mac, bisogna un po' fare attenzione, ma questo lo diremmo anche nei laboratori, poi per il progetto, al fatto che Linux è case sensitive e noi testeremo il progetto su Linux perché ci viene comodo perché abbiamo il server così, eccetera, e quindi quando facciamo gli import, quindi quando carichiamo le librerie, eccetera, i nomi delle librerie, bisogna sempre fare attenzione al maiuscolo, minuscolo, mentre Windows se non facciamo attenzione al file si carica lo stesso, stessa cosa anche su Mac, diciamo, il file system ci fa vedere maiuscole e minuscole, ma se ne carichiamo un file con un case diverso ce lo fa, quindi bisogna fare attenzione a questa cosa, ma a parte questo, vi dicevo, Linux sarebbe meglio perché Node funziona meglio, perché è nato fondamentalmente per lavorare in quell'ambiente, Windows nativo è la piattaforma che consigliamo meno perché poi magari ci sono certe cose che non funzionano, non è colpa vostra, voi state imparando, è già difficile capire se è colpa vostra o colpa del sistema, appunto se ci aggiungiamo il fatto che il sistema può avere dei problemi diventa un po' difficile, no? Quindi certe cosine richiedono un po' di attenzione in Windows se magari sono dovuti semplicemente al fatto che usate Windows e dà fastidio ovviamente quando si vuole sviluppare e imparare qualcosa di nuovo. Se usate Windows forse la cosa migliore è usare questo Windows Subsystem for Linux che c'è in Windows 10 perché oramai tanto è l'unica piattaforma supportata a Windows e questo di fatto è un Linux quindi non vi crea alcun problema, potete usarlo e funziona benissimo. Ho usato una versione recente di Linux, non so, una Ubuntu, appunto 20 o qualcosa di questo tipo. Dopo c'è la versione di Node che non è poi la stessa cosa è la versione di Node però diciamo metto un Linux recente e andiamo a utilizzare appunto un Node anch'esso recente. Adesso non ricordo se abbiamo messo la versione da qualche parte. allora ve lo dico facciamo click ecco se usate Linux la modalità di installarla è questo dal link evitate se andate su Node.js e basta mi viene fuori semplicemente vabbè scaricate qui siamo alla 1416 noi vi chiediamo almeno la 14 14.15 diciamo perché ci sono una serie di semplificazioni rispetto già anche solo all'anno scorso che vale la pena diciamo di usare per esempio l'importazione dei file eccetera che è molto più semplificata. anche questo viene sempre sviluppato e portato avanti e quindi diciamo vi chiediamo appunto proprio di usare la 14 e una versione recente a 14 questo vi scarica il pacchetto ma diventa scomodo perché va installato a mano nel link che vi abbiamo dato invece vi dunque c'è per esempio Ubuntu avete le istruzioni di come andare a a installarvi la il repository così che fate semplicemente install e vi viene la versione 14 appunto in questo caso 16 di node e ve lo dico perché la versione standard anche sull'ultimo Ubuntu non è quella che va bene per noi perché non è la 14 e quindi per forza bisogna seguire questa questa strada per installare l'ultimo node perché altrimenti poi abbiamo degli esempi quando noi cominciamo ad avere più file eccetera che non funzionano più perché importiamo le cose in maniera differente e appunto poi non non funzionano se non avete l'ultima versione quindi vi guardate le istruzioni con calma la 14 le dispari sono la versione in sviluppo quindi non non la consigliamo ma la versione stabile e la versione pari e questo vi installa semplicemente il repository all'interno del vostro ubuntu in maniera che tutte le volte che fate update lui si aggiorna e vi mette sempre l'ultima versione ok fatta questa parentesi andiamo a dare un occhio no scusate dimenticavo l'ultimo pezzo c'è ancora un altro modo per provare javascript questo però è didattico quindi understanding è proprio solo per didattica lo proveremo in questa lezione ma poi fondamentalmente lo abbandoneremo ci sono degli strumenti online che vi consentono vi fanno capire visivamente che cosa sta succedendo in javascript come questo python tutor dall'anno scorso abbiamo trovato anche questo questo jsconsole è una console tipo quella che abbiamo visto nel browser ma che gira all'interno della finestra del browser a pieno scherbo e quindi un po' più comoda da usare ha lo svantaggio che però non si può fare debug proviamo questo python tutor anche perché poi tra poco vogliamo andare a sperimentarlo quindi io qui adesso ingrandisco un pochino posso scrivere il codice javascript e faccio qualche prova che so use strict abbiamo detto che noi vogliamo lavorare in strict modo prima cosa che facciamo è sempre scrivere questa prima riga sul su tutti i nostri file javascript e poi che so scriviamo let a uguale 1 poi adesso parliamo di variabili eccetera ma volevo solo farvi vedere che cosa che cosa fa e semplicemente ci fa vedere visivamente che cosa stiamo facendo ovviamente è banale per diciamo per delle variabili così quindi se noi facciamo a uguale a 2 adesso ci viene fuori 2 possiamo è didattico quindi possiamo andare avanti indietro e fare tutto quello che vogliamo siamo nei limiti di un javascript relativamente semplice però lo vediamo visivamente ci tornerà utile per vedere che cosa succede quando cominciamo a lavorare con strutture complesse quindi array oggetti la prossima volta string eccetera eccetera quindi questi solamente per andare a fare esperimenti ok adesso questo forse ha messo no non c'è il link con tutto il codice si possono anche creare i link con tutto il codice vabbè comunque vi viene fuori qualcosa di un po' più sofisticato ma lo proviamo tra poco la console l'abbiamo vista quindi all'interno del browser se stiamo provando il codice all'interno del browser abbiamo la nostra console in ogni browser è in un menu differente però cercate developer o cose di questo tipo inspector e trovate e quindi direi che siamo pronti a questo punto per partire con javascript cerchiamo di non perdere tanto tempo noi in sei ore dobbiamo arrivare a fare qualcosa di sufficiente per fare un laboratorio che sia ragionevole non siamo più al primo anno della laurea triennale quindi vogliamo fare non un laboratorio in cui facciamo le quattro operazioni con due variabili come si fa al primo anno però e vogliamo fare qualcosa un pochino più sofisticato quindi abbiamo bisogno di imparare un pochino di javascript ma tanto sapete programmare dobbiamo solo focalizzarci sugli aspetti di javascript peculiari di javascript ecco primo aspetto un file un programma javascript cioè due file sono due programmi javascript diversi quindi due file due programmi diversi perché perché javascript è nato nell'ambiente web quindi questi file sono dei file che vengono scaricati da un server web se io ho dovessi metterli tutti insieme all'interno del browser e poi eseguire tutto come se fosse un unico programma diventerebbe prima di tutto è estremamente complicato perché prima di tutto devo aspettare che siano stati scaricati tutti poi devo unirli eccetera e poi se ci fosse un problema in uno non mi fa più funzionare l'altro file e tutti gli altri file quindi questo prima di tutto è un approccio completamente differente da quello che invece si fa con un linguaggio di programmazione compilato per esempio voi avete un programma c avete 5 file sorgenti il compilatore li compila crea il file oggetto li linka crea un unico eseguibile qui non funziona così sono programmi differenti chiaramente poi si pone subito il problema come fanno a parlarsi perché se io ne carico tre all'interno della pagina web come fanno questi a parlarsi bene l'approccio è fondamentalmente sono fondamentalmente due uno stato globale quindi diciamo così variabili globali per semplificare e ovviamente non è mai una gran cosa perché è gestibile solamente nel momento in cui il programmino è veramente piccolo e semplice ma nel momento in cui diventa grande dobbiamo avere qualcosa di un po' più sofisticato un po' più pulito e c'è questa qualcosa lo vedremo si chiamano moduli quindi ci consentono di condividere lo stato tra programmi javascript differenti in maniera un po' più come dire ordinata ecco il file prima di tutto viene parsificato interamente e poi eseguito da cima a fondo quindi parsificare non vuol dire che viene eseguito viene semplicemente detto verificato che la sintassi sia diciamo trasformabile in qualcosa di leggibile e poi viene eseguito da cima a fondo è un po' quello se siete se avete mai provato che è la stessa cosa che succede in Python se voi se per esempio sbagliate un'indentazione non è il caso di javascript ma diciamo avete quindi un errore di sintassi il programma neanche parte ma non è che è stato eseguito è semplicemente stato letto se la sintassi è corretta allora poi si può partire a eseguire come tutti i linguaggi ha una libreria standard quindi ci sono una serie di funzioni predefinite che ci consentono di lavorare come come in qualsiasi linguaggio di programmazione che so console log è la stampa l'equivalente della print l'alert che abbiamo visto prima era specifica del browser quindi non la trattiamo ancora qui la tratteremo quando parleremo del browser javascript è unicode quindi vuol dire che possiamo mettere anche i caratteri diciamo così non standard strani i caratteri accentati persino gli emoji quindi le faccine eccetera diciamo cerchiamo di non abusarne perché poi si finisce che magari la apriamo con l'edito che non sopporta bene eccetera cerchiamo di mantenerci in qualcosa di ragionevole punti e virgola non sono obbligatori tranne in certi casi di questo discutiamo specificatamente tra un istante linguaggio che è sensitive tipo C è molto simile al C se lo guardate non è tanto diverso dal C ha le stesse parole chiave if for eccetera le grafine i commenti e tutto quanto quindi diciamo che se sapete programmare in C come tutti gli ingegneri informatici che arrivano alla laura magistrale dovrebbero sapere non ci sono particolari problemi punto e virgola ecco questo di nuovo ci soffermiamo sugli aspetti peculiari del linguaggio il punto e virgola è gestito diversamente dal C nel senso che tra l'altro ci sono anche diverse scuole di pensiero c'è chi dice non mettiamolo se non indispensabile ci sono dei punti in cui è indispensabile quindi va messo per forza ma altri in cui non è necessario e quindi diciamo semplicemente si va capo senza punto e virgola perché? perché javascript automaticamente le inserisce diciamo tutte le volte che andiamo a capo a meno che diciamo la la sintassi non ci consente di interpretare le due righe insieme quindi in sostanza se noi andiamo a capo in javascript fondamentalmente è come se avessimo messo il punto e virgola oppure se appunto chiudiamo la graffa o se mettiamo return break throw continua se però sulla linea successiva cioè nessuno di questi casi è verificato e quindi scusate questa non è semplicemente la capo se sulla linea successiva c'è una cosa di questo tipo quindi se la linea successiva non inizia con parentesi tonno parentesi quadra allora diciamo che sopra è come se ci fosse il punto e virgola perché parentesi tonda o quadra perché la parentesi tonda è il modo con cui facciamo la chiamata funzione quindi abbiamo scritto una cosa sulla riga precedente poi sotto mettiamo aperta parentesi tonda bene quello che c'è prima è il nome della chiamata funzione oppure quadra perché quadra perché quello che c'è prima è il nome dell'array in cui vogliamo fare accesso con la parentesi quadra quindi adesso ci prenderemo poi la mano a questi aspetti diciamo che noi in questo corso per semplificare vi invitiamo a mettere il punto e virgola un po' come se fosse in C se mettiamo il punto e virgola sempre tutte le volte non sbagliamo mai è certo che diciamo ne metteremo di superflui questo sì quindi diciamo mettiamoli non ci sbagliamo siamo coscienti del fatto che in certi posti non sono obbligatori perché poi quando andiamo a trovare a cercare gli esempi online vediamo che non ci sono i punti e virgola funzionano lo stesso dobbiamo sapere perché e il motivo è questo che raccontiamo qui cioè che JavaScript ha le sue regole per inserire automaticamente un punto e virgola chiaramente essere consistenti con uno stile è la cosa migliore per questo noi diamo un'indicazione ma non è che all'esame se non mettete il punto e virgola funziona abbiamo un problema basta che si sappia e seguire uno stile è la cosa migliore semplicemente perché le cose sono più ordinate anche per noi semplicemente per noi che rileggiamo più avanti il nostro codice scritto da noi dopo tanto tempo se è più ordinato è meglio è più facile ecco strict mode l'abbiamo intravisto scusate in realtà era S5 S6 comunque quello dopo l'intervallo di dieci anni tra una versione e l'altra e ovviamente lo statement virgolette Ustreet virgoletta punte virgola è compatibile col passato è semplicemente una stringa non assegnata nulla ma è valido JavaScript è valido normalissimo però dice all'interprete JavaScript fai attenzione tutto quello che segue deve essere interpretato quindi eseguito in strict mode cosa vuol dire strict mode vuol dire che ci toglie tutta una serie di comportamenti diciamo abbiamo detto rischiosi cioè molto poco intuitivi e molto in cui è molto facile incorrere in errori per esempio per esempio ci sono degli errori che non lanciano eccezioni e quindi diventa difficile da gestire perché se verifica un errore non sappiamo cosa è successo nessuno ci dice cosa sta succedendo nel codice diventa difficile da gestire una questione del DIS che vedremo più avanti che è molto particolare in JavaScript ci dedicheremo quasi una lezione non si possono definire ecco due o più proprietà o parametri di funzione con lo stesso nome chiaramente quando due cose hanno lo stesso nome è quasi sempre indice del fatto che c'è un errore da qualche parte perché perché se abbiamo dato lo stesso nome a due cose e ne abbiamo scritte due probabilmente ad una delle due volevamo indicare un'altra cosa non volevamo sovrascrivere la precedente in strict mode dà errore in JavaScript standard vecchio non lo dà e quindi questo fa sì che diventiamo matti a debuggare ci sono certi tipi di variabili che non si possono più definire cioè quelle non dichiarate e così via non si possono usare i numeri in base a 8 quelli che iniziano con lo 0 come in C eccetera quindi evitiamo magari noi scrivevamo 0 10 e pensavamo di aver scritto 10 invece viene interpretato in base a 8 e tutti questi comportamenti che diciamo non sono di tutti i giorni e possiamo tranquillamente farne a meno noi usiamo sempre use stream ok e quindi iniziamo a parlare di JavaScript vero e proprio quindi di variabili tipi e poi facciamo un esperimento e facciamo un po' di programmazione live usando quel sito che abbiamo visto un attimo fa tutte le volte che vedete questo simbolino nelle slide facciamo riferimento a qualche capitolo dei libri che abbiamo visto prima se volete andare a fare degli approfondimenti su quei libri come dicevo non è obbligatorio non è estrettamente necessario perché è pieno di risorse online di tutorial e così via però se qualcuno non riesce a studiare se non ha un libro di riferimento e così via li trova in questi capitoli trova i concetti che andiamo a esporre sulle slide ops queste sono le i tipi fondamentali in JavaScript notate bene i valori hanno dei tipi le variabili non hanno un tipo è un linguaggio di scripting quindi come in tutti i linguaggi di scripting una variabile può contenere qualsiasi cosa fino a che ci mettiamo dentro qualcosa quando mettiamo dentro questo qualcosa il valore è il tipo se ho messo dentro un numero il tipo è numerico se ho messo dentro una stringa il tipo è stringa in JavaScript se ho messo dentro un boolean il tipo è boolean notate che per esempio non c'è distinzione tra float e integer quindi tra numeri interi e tra numeri e numeri decimali il tipo è numero per JavaScript e questa è già una differenza con tanti altri linguaggi le stringhe non esiste il carattere il carattere è una stringa di un carattere quindi è una stringa per JavaScript è semplicemente di un carattere poi esisterà anche la stringa vuota e poi esistono altri due tipi primitivi un po' particolari che sono il null null e l'undefined undefined lo incontreremo spesso tutte le volte che non ha segnato un valore a una variabile è undefined nel momento in cui la voleste usare undefined il null è un po' più particolare per esempio negli array se non avete inizializzato certe caselle sono al null e questi sono i tipi primitivi i tipi diciamo fondamentali e poi abbiamo i tipi più complessi e sono fondamentalmente tre in JavaScript quindi tipo oggetto che può essere un array una funzione anche le funzioni sono oggetti in JavaScript e poi i tipi che definiamo noi quindi gli oggetti che definiamo noi ok quindi attenzione è un linguaggio di scripting i valori hanno un tipo e il tipo è molto semplice stringa numero boolean undefined oppure più complesso valori veri e non veri di nuovo diverso dal c per questo ci soffermiamo vabbè c'è il tipo boolean quindi ovviamente c'è true false e si scrive in questa maniera appunto però quando si converte a boolean sapete in C la regola è tutto ciò che è zero è falso tutto ciò che non è zero è vero e qui abbiamo dei valori cosiddetti falsi e trusi cominciamo i falsi che è facile i falsi sono vabbè zero ma anche meno zero ma anche not a number quindi un tipo numerico un po' particolare che non è zero è not a number anche undefined e anche null e soprattutto anche la stringa vuota la stringa vuota che ci sarebbe una cosa completamente diversa ma qui la stringa vuota è un valore null scusate falsi non null scusate falsi cioè vuol dire che se lo mettiamo in un if valuta falso tutto ciò che non è falsi è trusi vabbè numeri string eccetera questa è la stringa falsi perché ha le virgolette poi parleremo di string un array vuoto un oggetto vuoto è trusi ma una stringa vuota è falsi quindi valuta falso ok solo da tenere a mente questo è uno delle tante potremmo dire stranezze se volete però diciamo già la scritta è fatto così e queste cose vanno un po' imparate bisogna farci un po' l'abitudine certe volte vengono anche comode come vedremo però bisogna un po' appunto entrare nella logica i confronti ovviamente ci troveremo spesso a fare dei confronti scriviamo un if dobbiamo fare qualcosa che ci dia un valore booleano esiste il doppio uguale e il triplo uguale che magari qualcuno di voi ha già visto in altri linguaggi di script doppio uguale converte i tipi e fa il confronto invece il triplo uguale controlla se il tipo è lo stesso e se il tipo è lo stesso fa il confronto quindi è uguale solamente se anche il tipo è lo stesso questo capita perché nei linguaggi di scripting visto che appunto il tipo è assegnato al valore non è che posso essere sicuro che le due variabili contengono lo stesso tipo quando le confronto perché dipende da cosa ci ho messo dentro allora per prima cosa l'interprete va a cercare di convertire l'una nell'altra che so se ho scritto tre sotto forma di stringa da una parte tre sotto forma di numero uno dei due viene convertito diventa la stessa cosa ok allora sono uguale a meno che non diciamo che vogliamo che il tipo sia anche lo stesso col triplo uguale numeri vabbè sui numeri non c'è niente di particolare da dire tranne che vabbè se volete diciamo in versione più recente esiste anche numeri un po' più grandi ma undefined ecco bisogna è il valore che viene assegnato alle variabili dichiarate ma non inizializzate quindi se dichiariamo una variabile e non gli diamo un valore è undefined non è in c in c ha un valore che è il suo che dipende da cosa c'è in memoria qui è undefined null è un valore empty come dicevamo prima per esempio dentro gli array non inizializzati ecco note number attenzione che è un numero è strano ma è un numero ed è quello che viene fuori come in altri linguaggi da operazioni che non non si riescono a effettuare per esempio 0 diviso 0 piuttosto che a fare il parsing quindi una stringa che non si converte in un numero javascript da fuori note number variabili ecco le variabili sono semplicemente dei riferimenti e dei valori a seconda di come lo usiamo possono contenere valori di tipo diverso e questo l'abbiamo detto perché conta il valore che c'è dentro la variabile in realtà voi che venite diciamo da una triennale diciamo di ingegneria informatica o comunque avete quelle competenze capite che vuol dire che sono dei riferimenti a dei valori scritti da qualche parte nella memoria che hanno un tipo quindi potremmo dire sono l'equivalente di puntatori se volete dire come direste in C perché possono essere indifferentemente puntare a una stringa a un numero a un boolean e così via ok quindi nell'uso dipende cosa facciamo possiamo assegnarci un numero ma poi se dopo un po' ci assegniamo una stringa quella variabile la stessa variabile punterà ad una stringa verrà usata con un valore stringa e così via come facciamo a dichiarare una variabile ci sono tre modi per la verità quattro che vediamo tra un istante ma diciamo tre per dichiarare una variabile in javascript questo è importante da capire let const var sono tre parole chiave javascript che ci consentono di dichiarare una variabile la differenza la vediamo adesso quindi let diciamo è quella che noi vi consigliamo di usare in tutti i programmi è il modo moderno di dichiarare una variabile javascript che deve essere riassegnata cioè una variabile in cui adesso mettiamo un valore poi più avanti magari dobbiamo mettere un altro non può essere ridichiarata come in c finché rimane nello scopo non è che posso dichiarare un altro con lo stesso nome lo scopo è il blocco diciamo le graffe in questo momento poi parleremo meglio di scopo modo preferito diciamo nostro di usare le variabili quando devono essere riassegnate l'alternativa è il const quando non è necessario riassegnarle in javascript capita spesso per esempio che sono una variabile all'interno di un for che scorre che sono una rec e poi si è dichiarata const perché ogni volta viene ridichiarata usiamo il const tutte le volte che è possibile perché così se noi abbiamo scritto const e poi la modifichiamo vuol dire che il programma non funziona e dobbiamo chiederci perché non funziona e magari è l'indicazione del fatto che abbiamo fatto uno sbaglio se abbiamo sbagliato cambiamo mettiamo let se però abbiamo scritto let nessuno ci dirà che abbiamo riassegnato il valore quindi const tutte le volte che è possibile altrimenti let esiste un'altra maniera di dichiarare le variabili che non vorremmo utilizzare e che è var che è diciamo la prima maniera di dichiarare le variabili in javascript sin dall'inizio può essere riassegnata può essere ridichiarata ecco ecco questo già non ci piace può essere ridichiarata no io scrivo da qualche parte var a e poi sotto scrivo var a di nuovo di solito quando dichiaro una variabile rimane per tutto il programma con quel nome non è che la ridichiaro se la ridichiaro magari ho semplicemente sbagliato e quindi voglio evitare questo comportamento il let me lo evita il var no ed è per questo che non ci piace perché perché se l'ho ridichiarata magari volevo scrivere b non a però nessuno me lo dice tra l'altro poi ci sono tutta una serie di questioni un po' particolari che adesso vediamo con un esempio cioè lo scope non è la graffa esiste anche il di fuori pur avendola dichiarata dentro esiste sin dall'inizio del programma pur avendola dichiarata dopo e questo è quello che si chiama hoisting e addirittura c'è un modo questo implicito che però questo viene disabilitato in strict mod per fortuna che ovviamente posso riassignare la variabile non ho bisogno di ridichiarare perché l'ho fatto in maniera implicita quindi senza nessuna di queste tre parole chiave e il globale esiste sin dall'inizio del programma anche se lo uso dopo e quindi diventa un pasticcio che non finisce più quindi vediamo un esempio io anziché andare su the slide come vi dicevo che vi servono le tenete come riferimento andiamo a vedere diciamo in pratica come come questo funziona ecco questo è il tutor quindi proviamo a scrivere un po' di codice use street ok mettiamo il tempo sì 23 non abbiamo tantissimo tempo però diciamo let a uguale 1 ok andiamo in live programming così mentre facciamo qui fuori ci viene tutto senza dover schiacciare di compilare const const b uguale 5 diciamo a uguale 2 possiamo ovviamente assegnare un nuovo valore diventerà 2 sì ecco 2 no ok se noi scrivessimo let a uguale a 2 vedo un pochino un pochino ecco ci viene fuori un errore sintax error identifire a è già stato dichiarato no e questo questo appunto è quello che vi dicevo prima no se però noi ecco lo scope diamo un'occhiata allo scope anche se non è il modo diciamo migliore di farlo scope ecco in questa maniera funziona perché l'app è limitata allo scope interno quindi a quello delle grafe quindi fuori posso ridichiarare un altro vedete che non esiste più né a né b no fuori esiste questa a perché l'ho dichiarata fuori ma se facesse c no chiaramente sarebbe questo se io però faccio dentro var a no io qui faccio a uguale a 2 adesso è un po' lento qui ok l'ha eseguito vedete che non c'è nessun errore ad a è stato assegnato 2 cioè a essendo stato dichiarato con var ad a esiste anche fuori dello scope delle graffe addirittura si fa quello che dicevamo prima l'hoisting cioè questa a esiste qui cioè se io scrivo a uguale a 5 qui non è che mi viene un errore esiste perché è come se questo var fosse stato spostato là sopra var a no adesso questo è un commento se io facessi così non ho bisogno di farlo perché è la stessa cosa ma questa cosa ci dà molto fastidio perché ci ci diciamo ci ci complica le idee su una cosa che voglio dire siamo abituati a pensare diversamente soprattutto se veniamo che so per esempio del mondo del ci no ancora peggio se noi non la dichiarassimo no ma per fortuna abbiamo detto che in strict mode se non si dichiara si ferma tutto ok quindi ecco facciamo qualche esempio pratico proprio per fare un po' di esperimenti ok ok questo è quello che abbiamo visto hoisted quindi se scrivessimo var c questo var scritto qui viene fuori dallo scope nello scoppio esterno comunque potete fare esperimenti adesso non riusciamo a starci dentro se non se facciamo troppi esperimenti però quello strumento lì soprattutto per quello che andiamo a fare tra un istante è molto utile perché ci fa poi vedere a cose si riferiscono le variabili dove esistono eccetera andiamo avanti con javascript se non avete domande io monitoro sempre live lecture se avete domande operators diciamo come tutti i linguaggi si rispettano ci sono gli operatori per fare di tutto no assegnamento più uguale meno uguale maggiore minore ci sono tutti bit or eccetera l'unica cosa ricordatevi il triple uguale ma di cui ne abbiamo già parlato confronta se sono dello stesso tipo occhio che confronta i riferimenti se sono oggetti quindi non è che va a vedere se gli oggetti contengono la stessa cosa è come in cifra è uguale uguale sul puntatore se lo stesso puntatore è uguale se non lo è non lo dà questo vale per gli oggetti chiaramente i valori hanno un valore se c'è scritto tre tre da una parte e tre dall'altra stesso valore stesso tipo non può che essere un tre però gli oggetti cioè gli array e gli oggetti come questi che non abbiamo ancora visto attenzione sono riferimenti non è che si va a vedere dentro quindi c'è tutto questo meccanismo di conversione automatica che avviene in javascript automatica o che facciamo noi con alcune funzioni predefinite per esempio per convertire un numero da numero anzi facciamo da stringa numero che è la cosa che forse inizialmente serve di più perché qualcuno scrive mette una stringa poi non vogliamo un numero per farci dei conti esistono delle funzioni parseint parseflot che tirano fuori l'intero il float sono sempre dei numeri però una cerca un intero e c'è errore se non viene fuori l'intero l'altro cerca il float oppure possiamo usare il costruttore numero oppure scrivere più s oppure fare s meno zero perché avviene una conversione automatica al numero ci tolgo zero e viene fuori un numero quindi bisogna entrare in questa logica di javascript a dirvi la verità questa sintassi non è onestamente forse la preferibile perché non gestisce bene gli errori perché una funzione forse va meglio bisogna però fare un po' attenzione e fare qualche prova c'è un to string per convertire qualsiasi tipo a stringa soprattutto quando lo voglio stampare per convertire in stringa anche il costruttore stringa ecco se voglio creare un boolean posso fare la doppia negazione però occhio al truth e al falsi quindi la stringa vuota per esempio è falso bisogna un po' entrare in questa logica io onestamente vi direi cerchiamo di evitare di fare cose strane piuttosto scriviamo un po' di codice in più siamo un po' più espliciti ma cerchiamo di evitare cose troppo implicite soprattutto se non siamo esperti e sicurissimi di quello che stiamo facendo anche perché poi quando rileggete il codice non vi ricordate più cosa avete fatto perché funziona ci sono degli operatori logici e questi sono interessanti soprattutto perché funzionano con ok ovviamente con i valori booleani questo non ci piove no quindi and and or or and not come in c però ecco funzionano anche diciamo con un con un sistema che ci consente fondamentalmente di svolgere delle operazioni logiche in una singola espressione come se fosse un if e non funzionano solo diciamo con con i numeri con i boolean con i numeri ma funzionano anche con le stringhe quindi adesso vediamo un esempio vi faccio vedere un esempio dunque just strict sempre che so let name così vediamo una stringa la stringa la possiamo definire con le virgolette semplici doppia poi c'è un terzo modo che è l'ultima slide di questo blocco che vediamo name uguale name oppure una stringa ok qui ci viene eseguito il codice c'è una variabile name che è stringa vuota e poi a name è stato segnato name oppure there un aspetto dentro input come vai name name dovrebbe funzionare quindi intanto forse questo questo forse dovevo lasciare uno spazio va bene ok ok volevamo fare let sentence uguale hello plus ecco ecco dove venire fuori l'idea è una cosa di nuovo che gira in javascript e in internet del browser quindi bisogna dargli un attimo di tempo e non magari se non funziona ricaricate la pagina ecco se funziona quando funziona così e l'or l'or lo possiamo usare praticamente per impostare un valore di default quindi name stringa vuota è un valore falsi allora l'or mi dice prendi quello che ci sta a destra se invece io ci scrivo qualcosa che so Enrico mi prenderà Enrico come name hello Enrico ok quindi che so nel momento in cui avete bisogno di impostare un valore di default a qualcosa adesso l'abbiamo riassegnata name ma poteva essere let name2 no qui scriviamo quello che vogliamo no però questa espressione con il doppio la doppia barra verticale quindi l'or ci consente di creare un'espressione con un valore di default nel caso per esempio della stringa vuota ok funziona con la stringa vuota perché la stringa vuota è interpretata come falsi con gli array ovviamente vabbè con gli array probabilmente avrebbe meno senso ok quindi per esempio per le stringhe questi ve li facciamo vedere ve li faccio vedere perché sono idiomi quindi modi di scrivere in javascript che spesso trovate e a cui bisogna fare l'occhio e quindi è utile conoscerli c'è poi anche il doppio e commerciale che funziona similmente ma per impostare chiaramente poi ci sono tutta una serie di funzioni di libreria insomma matematica c'è tutto quello che ci possiamo aspettare da un linguaggio quando diciamo conosciamo un linguaggio più o meno possiamo fare dei conti insomma ci sono queste funzioni a rotonda eccetera logaritmo tutto protoglio funzionalità di controllo sono molto simili al c quindi fondamentalmente non ci perdiamo tempo diciamo solo che attenzione la condizione è valutata se è trussi cioè abbiamo visto prima no cioè se non è falsi quindi se voi mettete la stringa vuota questa è valutata falso non è come in c o come magari in altri linguaggi di programmazione o di script switch similmente al c funziona similmente al c break opzionale perché potete unire più case l'espressione può anche essere una stringa non c'è nient'altro da dire il for funziona come in c volendo possiamo dichiarare una variabile qui let i uguale zero punto virgole eccetera do while nulla da dire di particolare si può usare il break il continuo quindi sembra quasi c ecco il for è un po' particolare perché ha altri costrutti c'è il for in che non usiamo per lo meno per ora fino a quando non andremo a vederlo perché itera sulle proprietà degli oggetti noi non abbiamo visto gli oggetti non ci interessa in questo momento guardiamo quello a destra che è il for off che è il preferito che è quello che itera sugli oggetti iterabili cioè fondamentalmente su cose tipo gli array le stringhe e così via questo è un array lo vedete lo intravediamo anche se ne parliamo tra un istante però insomma il linguaggio di programmazione l'avete già visto quindi non vi spaventate se vedete un array e quindi se eseguiamo questo for fa console log e ci stampa i valori 4 7 piuttosto che sulla stringa ci stampa i vari caratteri della stringa come singole stringe perché non esiste il carattere in javascript ok direi questo se volete lo provate però insomma non è l'unica maniera di iterare iterare è una cosa che si fa spesso in javascript per cui esistono tante maniere ci esistono anche dei metodi per esempio sugli array eccetera che però vedremo quando sarà ora perché sono un approccio un po' diverso quello che va sotto il nome functional programming che vediamo successivamente è possibile gestire delle eccezioni in javascript try catch finally throw eccetera ci sono delle eccezioni predefinite tutto quanto insomma se per caso siete dei partiti delle eccezioni potete anche crearvele sennò vi limitate a gestire a gestirle se c'è un caso in cui dovete fare veniamo ecco al quasi ultimo argomento di oggi che sono gli array dico quasi ultimo perché come ultimissimo faremo le stringhe che sono di fatto un caso particolare degli array quasi gli array sono molto ricchi di funzionalità in javascript quindi e sono anche particolari nel senso che non sono array come in tanti altri linguaggi perché possono contenere valori di tanti tipi diversi quindi stesso array non è un array di int non è un array di numeri ma può contenere un numero una stringa un valore booleano un altro numero eccetera la sintasi l'avete intravista è semplicissima con la classica delle parentesi quadre hanno tutti una proprietà appunto length un po' come in java se avete presente o come tanti altri linguaggi che ci dice quanto è lungo l'array in quel momento quindi sono dinamici non dobbiamo preallocarli come in c sono dinamici possiamo aggiungere togliere e length ci dice sempre quanto è lungo bisogna un po' fare attenzione ai metodi quindi a le modalità di interazione con l'array che modificano l'array stesso e quelli che invece ne creano uno nuovo per esempio se voglio prendere un pezzo di array mi viene creato un nuovo array se invece voglio cancellare un elemento dall'array chiaramente andrà a modificare l'array tolgo l'elemento in fondo l'inizio ecc quindi qui trovate una carrellata poi di metodi che sono che operano sugli array prima di tutto come si crea un array aperto chiuso a quadra è la cosa più semplice gli array partono da zero vanno fino a length meno uno quindi come in c niente di così diverso posso inizializzarli posso inizializzarli con valori anche di tipo differente tra loro posso usare anche l'oggetto particolare array predefinito in javascript con questa sintassi array off e dargli dei parametri questi sono parametri di una funzione intravediamo ma sono come in cino con le virgola stessa cosa numeri o lettere possiamo aggiungere elementi quindi se noi creiamo un nuovo indice creiamo un nuovo elemento abbiamo una funzione per appendere quindi attaccare alla fine o all'inizio push and shift dovrebbero esserci qua ecco sono quattro push all'inizio aggiunge and shift aggiunge all'inizio scusate push alla fine pop toglie alla fine quindi modifica l'array shift modifica l'array e toglie dall'inizio quindi ci dice ci ritorna il valore dell'array modificato come facciamo copiarli array eccetera eccetera io adesso anziché seguire le slide di nuovo vi farei vedere qualcosa di pratico quindi andiamo sul nostro emulatore javascript che adesso comincia a farsi interessante perché così vediamo un array vero e vediamo dove viene tenuto e tutte queste cose che sono uno quattro nove secci sempre il contro che fare le quadre sempre macchinoso ecco vedete a destra come vedete sulle slide a ecco qui si vede chiaro che è un riferimento è un riferimento ad un array e questo lo vediamo ancora più chiaro se facciamo let b uguale a non copiamo adesso aspettiamo che venga eseguito non copiamo il cos'è array se noi facciamo appunto a d anzi no scusa b d 2 uguale a che so hello vedrete che andiamo dentro l'array a modificare il contenuto è solo un po' lento un computer un po' lento evidentemente ogni tanto fatica un po' a star dietro perché è tutto eseguito all'interno del browser qui hanno scritto dei programmi javascript che emulano javascript quindi se noi andiamo a fare che so console log se vediamo anche la console a tutto a ecco facciamo vediamo ma non so se a si diciamo c'è un metodo to string implicito che ci dice che cosa è contenuto vedete che in a c'è hello perché? perché punta lo stesso array anche se ho modificato b quindi ho dei riferimenti al mio array se volevo oppure a d2 devo prendere un po' più una mano su questo computer che uso solo per fare didattica quindi ecco stampa hello se volevo una copia dell'array posso farla la copia dell'array la copia dell'array però devo farla in una maniera apposta con un metodo cioè non posso fare b uguale a come ho fatto prima no? che so faccio let non so c uguale array dunque dovrebbe essere from a se no mi sbaglio adesso è bloccato attendiamo che venga eseguito cercherò di capire se c'è una maniera di farlo funzionare più più velocemente ah scusate se non metto lo spazio in internet questo emulatore si si incarta un pochino vedete qui c'è un secondo array questo ho creato un array indipendente però ho dovuto farlo diciamo in questa maniera che che mi consente di di creare un nuovo array quindi o me lo copio io me lo faccio col for no? però diciamo come sempre i programmatori cercano di evitare di fare di scrivere codice se possibile quindi ci sono queste funzionalità apposta degli array le conosco le imparerò e se ho bisogno le uso chiaramente avrei potuto anche scrivere un for let i uguale a 0 i e e fare dichiarare facciamo una prova così se no se mi dico a voce non non si finisce più quindi let di array vuoto poi faccio un for let i uguale a 0 i minore di dunque a punto length i più più poi faccio dunque di di come scriverei in cino di di sempre così scusate uguale a di adesso attendiamo che viene eseguito e fondamentalmente ecco viene stato eseguito ecco ci metto un po' ad aggiornarsi perché ho scritto ad1 e ho creato un overray prima era vuoto se voi volete ecco questo è didattico ve lo fa vedere anche creato passo passo dove vedete la freccia rossa il d d è un empty array poi comincio ho creato i e vado avanti e lui nel momento in cui uso un indice mi crea un array una casella nell'array ok torniamo sulle slide che per il tempo stringe quindi ho fatto l'array from ve l'ho fatto vedere ho creato un nuovo array ci sono tutta una serie di metodi su di array appunto per ora limitiamoci a questi due e poi quando facciamo la programmazione funzionale parleremo più diffusamente degli altri per scorrere gli array ci sono poi tutti i metodi che servono a gestire gli array per esempio a unire gli elementi dell'array con qualcosa per esempio voglio stampare tutto l'array slice lo divide e tira fuori un nuovo array quindi abbiamo distinto dove sono in place modificano l'array splice taglia e toglie invece slice crea uno nuovo reverse me lo riordina ma non ne crea uno nuovo sort pure index of va a cercare mi ritorna l'indice e così via io direi che è inutile stare qui a giocare con questi metodi che sono basta provarli una volta o due cercando anche online troverete tutto quello di cui avete bisogno vediamo le cose interessanti di javascript come dicevo ecco l'assegnamento destrutturato se voglio tradurlo in italiano questo è un po' particolare però è utile di nuovo sono quelle cose che vediamo spesso nel codice scritto da altri cioè posso assegnare un vettore a un altro vettore anche creandolo al volo come faccio qui let aperta quadro x y chiusa quadro uguale x y non esistono prima sono due variabili che poi esistono in maniera indipendente più avanti cioè se faccio let x y uguale 1 2 in x va a finire 1 in y va a finire 2 con una sintesi così posso fare lo swap di due variabili in un'unica operazione per esempio questo è specialmente utile quando ritorno dei valori da una funzione perché mi viene comodo ritornare 2 e non 1 sapete che pasticcio c'è per ritornare due valori in c ecco qui invece è molto immediato quindi questo assegnamento posizione per posizione con un unico uguale usando gli array l'operatore spread i tre puntini ecco diciamo che è come se facesse un for per scorrere il contenuto dell'array ma lo separano i vari elementi quindi quasi mai vedremo un for un for come l'ho scritto prima io uguale a zero eccetera in javascript perché piuttosto c'è l'operatore spread che funziona sia dal lato destro cioè quando assegniamo da destra a sinistra quindi parts che è un array viene diviso nelle due due tre n elementi di cui è composto oppure funziona anche a sinistra cioè gli elementi dell'array vengono raggruppati nell'unica variabile che quindi diventa un array quindi possiamo fare facciamo una prova di array quindi per esempio per assegnare un array ma adesso facciamo la prova live sebbene non sia velocissimo ma dunque facciamo allora mettiamo via tutto vi faccio vedere per esempio il join console log per dire join che so uniamo con la virgola e viene fuori nella console la virgola se io avessi unito con quello che voglio quindi c'è solo da prendere un po' di pratica con questi metodi quindi che so se facciamo let be uguale allora questo è l'array vuoto ma io voglio metterci a b c e questo nulla di particolare no diciamo che facciamo let be uguale che so una stringa sempre un array una stringa e poi ci metto dentro b e un'altra stringa qualsiasi adesso sto scrivendo un po' a caso se metto b ci metto il riferimento all'array cioè la situazione è quella che vedete qui sulla sulla destra cioè un riferimento e come prima prima era una variabile adesso è dentro un array però dentro un array può starci qualsiasi cosa se io invece voglio metterci i valori ho appunto questo operatore che prende e prende ogni valore e lo inserisce come nuovo valore all'interno dell'array no e quindi diventa così me li ha copiati questi diventano indipendenti perché sono una copia chiaramente se avessi copiato un array cioè se al posto di b ci fosse stato ci fosse stato a mi copio il riferimento perché non mi copio mai l'array a meno che io non crei un array apposta apposta voglio creare una copia quindi devo sempre avere in mente questi schemi e questo simulatore per le prime due o tre lezioni lo usiamo per capire bene che cosa sta succedendo e usatelo anche voi perché appunto facilita molto la visualizzazione di quello che sta succedendo quindi se appunto voglio semplicemente copiare un array allora a questo punto come avete intravisto sulle slide che so copiamoci b posso semplicemente farlo così questa è una copia b adesso è tanto pasticciato diciamo così così si pasticcia un po' meno però mi ha fatto una copia di b direttamente con lo spread questo operatore tre puntini creo direttamente una copia è una sintesi molto usata per questo che ci teniamo a farvela vedere non tanto per farvi vedere appunto le stranezze ma per farvi vedere quello che poi trovate sul codice degli altri quando cercate in giro dunque sono 52 abbiamo quasi finito quindi array from lo crea da un altro array array off lo crea da una lista di parametri e quindi possiamo usare lo spread oppure semplicemente questa sintassi che è anche molto più nel cibo stringhe ultimo argomento le stringhe sono una sequenza immutabile di caratteri unicode quindi supporta l'unicode quindi posso metterci dentro caratteri strani a piacere diciamo così sono immutabili a differenza del cin ci sono dei vettori in cui posso andare a modificare qui sono immutabili cioè vuol dire che tutte le volte coprerò su una stringa se il risultato una stringa sarà una nuova stringa la length esiste del numero di caratteri non dei byte occhio perché nel momento in cui sono unicode un carattere può essere più di un byte posso scrivere di tutto ma questo vuol dire che non ci stanno su 256 valori partono da zero non c'è il carattere singolo ma si usa una stringa di lunghezza una se abbiamo bisogno del carattere string singolo si possono usare gli apici singoli o doppi occhio che quando faremo il json poi se usate i singoli non funzionano quindi quando scrivete json o lo fate con una libreria e va bene si pensa a lei oppure se lo fate a mano occhio che bisogna sempre usare i caratteri doppio apice e si possono fare una serie di operazioni molto simili a quelle degli array tutte le operazioni ritornano no a stringa perché le stringhe sono immutabili sono dei tipi primitivi che non si possono andare a modificare posso farci l'indexing a partire da zero quindi questo è il quarto carattere della stringa posso concatenarle col più così come col concat sì mi sembra di sì comunque se no proviamo poi length non length aperta chiusa tonda è una proprietà non è una funzione da chiamare comunque vi darà errore se vi sbagliate tutta una serie di metodi cerca come ci sono sui come ci sono sui sugli array ma quindi noteri che stiamo a perderci tempo qui più di tanto ecco forse to uppercase to lowercase forse sono tra quelli più usati perché se voglio avere tutto maiuscolo minuscolo per fare un commento senza senza preoccuparmi nel maiuscolo minuscolo l'ultima cosa di cui vi voglio parlare sono i template literal cioè c'è un terzo modo di dichiarare le string che sono questi backticks è un carattere apposta che trovate sulla tastiera sulla tastiera italiana sotto il punto interrogativo no scusa su questa tastiera sotto il punto interrogativo su quella del mac per esempio non c'è bisogna per non raccominciare i tasti sono questo apice a rovescio e sono interessanti perché dentro possiamo scrivere delle espressioni javascript delimitati da dollaro aperta graffa chiusa graffa chiaramente delle espressioni relativamente semplici non vogliamo complicare troppo è una stringa non è che possiamo scrivere il codice così complicato dentro una stringa ah ecco su mac è option più nove ok perfetto grazie ok windows perfetto grazie mille ha molto aiuto allora questo slack vediamo solo questo esempio quindi noi scriviamo una stringa in questo formato dollaro aperta graffa e dentro un'espressione javascript che nel caso più semplice può semplicemente essere il nome di una variabile a cui verrà sostituito il suo valore no quindi andiamo a farci l'esempio di nuovo sul sul nostro sistema diciamo di simulazione javascript let name nuoto let sentence sentence uguale allora il backtick che anche qui devo farlo no in realtà vi ho detto sbagliato perché su questa tastiera effettivamente adesso aiuto adesso non lo trovo altgr grazie bravissimi siete più bravi di me meno male è stata una cosa buona ecco infatti sono su linux hello l'emozione della prima lezione quindi possiamo scrivere name no nel posto di name verrà sostituito e la c'è la stringa vuota diciamo io metto enrico e quindi verrà sostituito enrico adesso appena farà girare ok ok ho messo due spazi e quindi quello che c'è fuori non viene sostituito quello che c'è dentro ovviamente si tutto ecco qui tra l'altro posso fare quel giochino giusto per finire come facevo prima e quindi voglio il valore di default beh se ci metto un valore non la stringa vuota c'è il valore se no c'è il valore di default e quindi vedete senza scrivere un if cose complicate eccetera riesco a scrivere cose anche relativamente diciamo difficili o più macchinose da scrivere in altri linguaggi quindi javascript da un certo punto di vista è un po' come dire bisogna conoscere tanti piccoli dettagli varianti eccetera però dall'altro ci consente anche di scrivere del codice javascript relativamente compatto e anche direi facilmente leggibile nel momento in cui uno riesce riesce a leggere il codice quindi sa cosa vogliono dire tutti questi operatori tucchetti vari eccetera il vostro collega mi chiede quindi array e stringhe sono oggetti no in realtà stringhe sono dei tipi primitivi che però a livello pratico si comportano quasi come degli array un caso in cui non è necessario usare punto virgola certo lo facciamo subito questo è un caso tagliamo punto virgola funziona uguale perché perché sotto non c'è una parentesi quadra non c'è una parentesi tonda se io avessi dunque diciamo possiamo fare perché diciamo che tutti gli esempi che abbiamo visto finora fondamentalmente se non mettiamo il punto e virgola funzionano no perché perché appunto dunque per iniziare con una parentesi quadra tonda ecco facciamo l'assegnamento x y dunque x y uguale 1 2 no ok adesso aspettiamo e non funziona più e se mettiamo il punto e virgola rifunziona ok ho ho truccato devo fare let va bene però avete visto la differenza diciamo facciamo così let x let x let y così non trucco adesso ci darà errore siamo quasi mi lascio andare appena finisce vabbè vuole piantarsi comunque se non metto il punto e virgola la quadra fa sì che venga ricercato in quello che c'è prima come anche se fosse che so let name venga preso name come se fosse un array che voglio andare a dereferenziare oppure se avessi delle parentesi tonde sarebbe una chiamata funzione perché la sintasi chiamata funziona parentesi tonde la sintasi accesso all'array e la parentesi quadra ok adesso mi si è piantato qui il programmino e bisognerebbe provare a ricaricarlo solo che siamo già alle 13 e quindi non so se avete altri corsi e quindi dovrei lasciarvi andare comunque abbiamo sì una domanda off topic comunque intanto abbiamo terminato le slide di oggi siamo stati un po' giusti cercheremo di essere migliori la prossima volta fate delle prove con questo sistema online perché è molto bello per riuscire a capire che cosa che cosa succede effettivamente dentro dentro javascript quindi dentro l'interprete per raggiungere le aule r1 dei laboratori conviene passare accanto alle ogr dunque mi hanno detto io non ci sono mai entrato perché sono nuovissime che si entra da via boggio o borsellino cioè praticamente bisogna fare il giro da fuori e si entra di fronte alla residenza universitaria quindi quel palazzo alto grigio bianco che c'è fuori c'è un ingresso da fuori credo che non ci sia da dentro perché devono ancora finire hanno proprio finito venerdì di mettere a posto tutto quindi prima o poi presumo che ci sia un ingresso anche da dentro però per ora credo sia solo da fuori quindi però comunque fino al 15 noi non andiamo in aula il 15 se siamo ancora arancioni o medio gialli andiamo in aula per la squadra di riporto bene oggi direi che terminiamo qui vi ringrazio aver seguito la lezione anche di essere stati un po' interattivi in questa prima lezione quindi spero che tutto il sistema vada bene se avete consigli dubbi o domande o suggerimenti c'è Slack oppure mi scrivete un'email e vediamo di fare quello che è possibile ci rivediamo quindi giovedì alle 8.30 sempre su Zoom per continuare avrete online le slide per la prossima volta con diciamo un pochino di anticipo grazie e a presto a giovedì grazie a notte e arrivederci a notte a notte o